ciao a tutti oggi faremo ancora un esercizio sulle maschere di livello vediamo subito quello che dobbiamo realizzare benissimo come vedete l'esercizio non è particolarmente lungo quindi anche questa volta lo faremo in un unico tutorial senza doverlo dividere in più parti quindi per realizzare queste transizioni da una fotografia all'altra non faremo altro che creare un gruppo di rettangoli che si ingrandiscono e riempiono lo spazio della composizione e una volta ottenuta questa animazione la useremo come maschera sulle fotografie comunque è più facile realizzarlo che spiegarlo quindi iniziamo subito la prima cosa che realizziamo è appunto questa animazione del gruppo dei rettangoli che riempiono lo schermo quindi cominciamo con la prima composizione andiamo nel menu composition new composition e chiamiamo questa composizione animazione maschera usiamo il nostro preset solito hdtv 1080 25 e la facciamo di una durata di 5 secondi perché ogni fotografia rimarrà in scena per non più di 5 secondi e diamolo ok benissimo adesso con lo strumento rettangolo eccolo qua disegneremo un rettangolo e lo possiamo fare in qualsiasi zona della composizione io per esempio lo disegno in questa zona qua ok e subito metto l'anchor point al centro così lo gestisco meglio e per fare ciò uso la solita palette move anchor point cliccando qui al centro e questo è il primo rettangolo adesso ne devo distribuire altri intorno di forma diversa in modo tale da riempire la composizione senza lasciare nessuno spazio vuoto quindi non faccio altro che duplicare quello che ho quindi lo seleziono contro lì e lo sposto da un'altra parte magari questo secondo rettangolo lo faccio particolarmente lungo e stretto in modo che occupi la larghezza della composizione tipo così ok poi duplico ancora ctrl d questa volta lo allungo in verticale in modo da occupare tutta l'altezza della composizione bene poi vado avanti così duplico ancora questa volta lo metto in questa zona qua il successivo lo metto qui in modo da chiudere il buco qui in basso a destra il prossimo lo metto qui in modo da coprire il buco nella parte sinistra poi duplico ancora un altro e lo faccio della grandezza giusta per il buco in alto a destra e poi l'ultimo per coprire l'ultimo spazio rimasto libero che è questo angolo qua benissimo adesso faremo contemporaneamente su tutti i rettangoli un'animazione sulla scala devono partire da grandezza zero e tornare a questa grandezza qui io voglio che l'animazione duri circa una ventina di frame poco meno di un secondo quindi prendo il cursore avanzo nella timeline più o meno qui fino a 20 frame poi seleziono tutti i livelli ecco qui tasto s di scala e accendo l'orologio a tutte quante le scale dei livelli ecco qui ho un keyframe per ogni livello poi prendo il cursore torno al tempo 0 e a 0 tutti quanti i valori della scala quindi a 0 1 qualsiasi e siccome i livelli sono tutti selezionati si azzerano tutti ora voglio che il keyframe finale di tutte queste animazioni sia particolarmente morbido quindi seleziono tutti quanti i keyframe in un colpo solo e con la palette controllo is is che ormai abbiamo già usato diverse volte assegno un is is particolarmente morbido quindi un valore alto vicino a 100 90 potremmo mettere anche 100 questa volta il massimo e se faccio una preview vedo che tutti quanti i rettangoli si ingrandiscono contemporaneamente ma io voglio che ci sia del ritardo fra i vari rettangoli cioè cominci il primo che ho disegnato poi un po' più tardi il secondo il terzo il quarto il quinto e così via quindi non faccio altro che il primo livello questo lo lascio lì dov'è tutti gli altri livelli mi seleziono tutti quanti dal secondo in poi e li sposto avanti nella timeline facciamo un paio di frame quindi sono tutti in ritardo un paio di frame adesso deseleziono il secondo 15 clicco sopra col control mi rimangono selezionati gli altri e li sposto avanti di altri due frame e via così quindi deseleziono sempre l'ultimo e poi gli altri li sposto avanti in modo tale che ci sia un ritardo costante di due frame per tutti i rettangoli se adesso io vado a vedere l'animazione finale vedrò che lo schermo si riempie non tutto di colpo ma un poco alla volta cominciando dal primo rettangolo che ha disegnato e finendo con l'ultimo benissimo adesso noi questa animazione qua la useremo in una nuova composizione come maschera di livello su una fotografia in modo che appaia un pezzo alla volta quindi adesso cominceremo a creare la prima composizione della scena iniziale chiamiamola così quindi composition new composition e chiamiamo questa composizione scena 1 dove metteremo la foto e il titolo della prima parte anche questa di durata 5 secondi e diamo l'ok bene qui dentro mettiamo la prima fotografia che è questa qua clicco il tasto s per ridurre la scala e la rimpicciolisco in modo che stia all'interno della composizione come ormai siamo abituati non lasciamo la foto statica ma le aggiungiamo un'animazione sulla scala in modo che si ingrandisca poco alla volta quindi portiamo il cursore al tempo zero accendiamo l'orologio della scala andiamo col cursore sull'ultimo frame della composizione e aumentiamo leggermente la scala tipo così e quindi se facciamo una preview come al solito vediamo che la foto si ingrandisce lentamente benissimo adesso sopra questa fotografia aggiungiamo quella composizione animazione maschera e poi la useremo per ritagliare la foto quindi prendo animazione maschera e la aggiungo qui nella timeline e la metto sopra la fotografia adesso prendiamo in considerazione la fotografia nella colonna track matte qui sulla destra e se non l'avete come più volte già vi ho detto basta che cliccate su questo secondo comando nell'angolo in basso a sinistra della timeline che serve a togliere e aggiungere comandi qui nella timeline insomma quando avete la colonna track matte in corrispondenza della fotografia attiviamo la voce alfa matte animazione maschera a quel punto se facciamo una preview vedremo che la fotografia appare un poco alla volta dentro quelle forme rettangolari lì benissimo ma se noi diamo un'occhiata al video la foto appare così ma un poco prima della foto è un poco più tardi vedete c'è la stessa maschera però colorata quindi noi useremo due copie di quella animazione maschera però colorate una d'azzurro e una di rosa in modo appunto da avere questo effetto qua che prima si allarga l'azzurro poi la foto poi il rosa e poi di nuovo la foto e vedremo poi più tardi come fare quindi selezioniamo il livello animazione maschera e lo duplichiamo ctrl d il duplicato lo accendiamo e al momento è nero perché avevo creato gli shape layer neri adesso dobbiamo ricolorare questa composizione animazione maschera e per farlo usiamo un effetto quindi andiamo nel menu degli effetti nella categoria generate prendiamo l'effetto fill l'effetto fill colora immediatamente tutto il livello di rosso ma noi nella palette colori scegliamo appunto un azzurro non troppo scuro tipo così benissimo questo livello deve anticipare la fotografia quindi lo mettiamo innanzitutto sotto la foto e poi prendiamo la fotografia e il livello maschera e li ritardiamo di qualche frame più tardi arrivano e più larga sarà la maschera colorata sotto quindi facciamo una cosa tipo 1 2 3 frame 3 frame credo che vadano bene quindi rivedendo vediamo che prima arriva l'azzurro e poi la foto tagliata ma immediatamente dopo che comincia a apparire la foto deve qui di nuovo comparire un'altra copia della maschera però rosa quindi ancora duplico il primo livello che è colorato di azzurro quindi ctrl d la copia la metto sopra la fotografia e la metto più tardi di altri tre frame in modo che arrivi ancora più tardi rispetto alla fotografia però eccola qui la copia non la voglio azzurra ma rosa quindi nella palette colori dell'effetto fill scelgo questa volta un rosa non così acceso magari più chiaro tipo così benissimo a quel punto qualche frame più tardi ancora che è entrato in scena il rosa devo tornare a rivedere la foto e per fare questo basta fare un buco all'interno della maschera rosa con la stessa forma della maschera per fare questo non ci serve altro che duplicare un'altra volta il livello della maschera rosa quindi la seleziono ctrl d la ritardo di ancora tre frame e userò questa ultima copia della maschera per fare un buco al livello sottostante cioè la maschera rosa quindi seleziono animazione maschera rosa e nella colonna track matte dirò questa volta alfa inverted matte vediamo il risultato ecco qua quindi dentro la maschera rosa si apre un buco con la stessa forma della maschera e vediamo il risultato finale che è questo prima viene l'azzurro poi la foto poi il rosa e poi il rosa viene bucato di nuovo e quindi torno a rivedere la fotografia benissimo quindi l'animazione sulla foto l'abbiamo fatta adesso dobbiamo creare qui al centro della scena un rettangolo bianco e una scritta nera dentro vediamo soltanto brevemente com'è l'animazione se notate il rettangolo bianco è anticipato da un rettangolo rosa che ha la stessa identica animazione delle maschere colorate che abbiamo usato per la fotografia quindi adesso noi duplicheremo un'altra volta la copia rosa e la ridurremo a questa grandezza qua poi duplicheremo faremo una copia bianca e poi penseremo al titolo che anch'esso deve essere ritagliato con la forma delle maschere benissimo allora cominciamo a duplicare il livello rosa che è questo livello qua quindi lo seleziono ctrl d e lo riduco della grandezza che mi serve che è più o meno così e lo vado a mettere in questa posizione qua però voglio che entri in scena un poco più tardi quindi prendo la barra nella timeline e la sposto più o meno qua vediamo se qui va bene no direi che dovrebbe arrivare ancora un po più tardi quando la maschera sulla foto è quasi completa direi che deve cominciare questo rettangolo colorato ecco più o meno in questo momento qua circa un secondo un attimo più tardi voglio che arrivi sempre con la stessa animazione un rettangolo bianco quindi non faccio altro che duplicare un'altra volta ancora questa ultima maschera ritardarla qui ancora di qualche frame e colorare questo secondo rettangolo di bianco quindi visto che ha già l'effetto fill utilizzo di nuovo la palette colori dell'effetto e lo sposto sul bianco vediamo forse va ritardato ancora un pelo quindi rivediamo il tutto vediamo la foto e un attimo dopo i due rettangoli colorati benissimo adesso la stessa cosa la faremo sul titolo cominciamo con lo strumento testo a scrivere il titolo quindi clicco scrivo motion graphics ingrandiamo il titolo facciamolo di una grandezza adatta a questo rettangolo la font uso quella che ho usato nell'esercizio precedente che è wasser serif e come al solito io voi vi lascio nella pagina di questo video il link per potervi poi scaricare la font se volete usare anche voi la stessa che sto usando io bene quindi in questo caso adesso lo lasciamo nero benissimo e mettiamo l'anchor point al centro quindi nella palette move anchor point clicco al centro del diagramma se vogliamo centrare la scritta precisamente al centro del rettangolo non facciamo altro che selezionarla e mentre la muoviamo col tasto control premuto vedete che la prima cosa che trova al di sotto si calamita al centro benissimo quindi adesso sono sicuro che motion graphics è al centro del rettangolo bianco ora voglio come per tutti gli altri oggetti che questo titolo compaia grazie alla stessa maschera quindi innanzitutto decidiamo che il titolo entri in scena un poco più tardi dei rettangoli quindi la prima cosa da fare è trimmare tutti i frame iniziali del titolo fino più o meno qui cioè dopo che è entrato in scena l'ultimo rettangolo bianco forse anche un po' più tardi facciamo così poi sopra il titolo ci mettiamo una copia della maschera quindi selezioniamo l'ultima che ci capita innanzitutto quest'ultima maschera ha una voce alfa inverted matte accesa che dobbiamo assolutamente spegnere perché non ci serve poi duplichiamo come dicevamo prima questo livello colorato e lo mettiamo sopra il testo lo allineo con il testo in modo che cominci qua e al testo in corrispondenza della colonna track matte attiviamo di nuovo la voce alfa matte e così il testo comparirà un po' alla volta anche lui benissimo però ci servono due copie del testo una nera sì e una anche azzurra dello stesso colore della prima maschera colorata quindi questa volta duplico il testo e anche la sua maschera quindi seleziono testo e sua maschera ctrl d spostiamo il duplicato più avanti e la prima copia di testo questa qui anziché nera la ricoloriamo di azzurro quindi vado col cursore nel momento in cui vedo l'azzurro seleziono il testo nella palette dei colori del testo prendo il contagocce e campiono l'azzurro così avremo il primo testo azzurro e un attimo dopo quello nero che va a coprire quello azzurro ok facciamo una rapida preview se va tutto bene perfetto c'è solo una cosa da vedere guardate il rettangolo e la scritta vedete che il rettangolo rosa e la scritta azzurra sono leggermente spostati verso destra come se fossero una specie di spessore colorato quindi selezioniamo la maschera rosa che è questa e con la freccia a destra spostiamo di 2-3 pixel tipo così in modo che sbuchi fuori di lato qua stessa cosa per il testo azzurro quindi lo seleziono qui e con la freccia a destra lo sposto 1 o 2 pixel a destra 2 possono bastare quindi li vediamo un'ultima volta e abbiamo completato la prima scena ora la seconda scena e la terza le otterremo molto rapidamente duplicando la prima scena e sostituendo le foto e magari invertendo la posizione dei rettangoli in modo che non siano disposti allo stesso modo della scena precedente vediamo subito andiamo nella finestra di progetto seleziono scena 1 CTRL D la duplico ho subito una seconda scena nominata scena 2 perfetto quindi doppio clic su scena 2 nella timeline ho aperto il duplicato della scena 1 qui devo sostituire innanzitutto la fotografia quindi seleziono la foto il JPEG prendo la seconda foto della finestra di progetto e col tasto ALT la rilascio sopra quella vecchia quindi la sostituisce e mantiene l'animazione sulla scala benissimo poi tutte le maschere sono già impostate soltanto la posizione di queste maschere qui la vorrei leggermente modificare rispetto a quelle della scena 1 quindi seleziono le maschere che riguardano la fotografia che sono questa qui la prima che è l'azzurra poi questa, questa e questa quindi una volta selezionate le posso invertire orizzontalmente e magari anche verticalmente in modo che abbiano una disposizione un po' diversa da quelle della scena 1 per farlo rapidamente andiamo nel menu layer transform e abbiamo a disposizione questi due comandi flip horizontal che le inverte orizzontalmente e vertical che le inverte verticalmente quindi cominciamo a invertirle orizzontalmente attivo flip horizontal quindi ciò che stava a destra si trova a sinistra e viceversa adesso adesso vorrei invertire anche l'alto basso quindi vado nel menu layer ancora transform e inverto verticalmente quindi le maschere funzionano ancora solo che anziché partire da questa zona qui in basso a destra adesso partono da questa zona in alto a sinistra benissimo mentre invece per il testo dobbiamo modificare qualcosa di più perché andiamo a vedere il filmato dobbiamo scrivere after effects tutorial quindi la dimensione del rettangolo e del testo è un po' diversa quindi innanzitutto elimino la seconda copia del testo perché è più facile modificarne uno e poi duplicare più tardi che modificarle contemporaneamente tutte e due le copie quindi seleziono il secondo livello di testo e la sua maschera e li cancello quindi il tasto cance se ne vanno adesso doppio clic sul testo e modifico il titolo in after effects e a capo tutorials aggiustiamo un po' con la scritta potremmo farla più o meno così e tutorials lo potremmo fare un po' più grande un po' più largo e un po' più vicino ad after effects benissimo adesso possiamo modificare la dimensione delle maschere colorate e della maschera che taglia il testo quindi seleziono il primo rettangolo rosa il secondo bianco e anche la maschera che taglia il testo questi tre livelli qua e li riallargo e lo posso fare tranquillamente a mano in modo tale che vadano bene per il testo aspetto che il testo sia completamente comparso e li aggiusto più o meno di questa grandezza e lo sposto un po' più sotto a questo punto seleziono tutti e quattro livelli e li sposto direi in questa zona qua perché ci servono a sinistra benissimo e adesso posso sì duplicare il livello di testo per avere una seconda copia della scritta after effects tutorials in nero quindi seleziono la scritta e la sua maschera ctrl d la ritardo ancora di qualche frame e cambio il colore in nero e quindi dovrei avere la seconda copia di testo che arriva un po' in ritardo nera e poi però dobbiamo anche ricordarci di spostare la copia azzurra qualche pixel più a destra in modo che sbuchi di qua quindi la seleziono freccia a destra e un paio di pixel la spostiamo in fuori quindi abbiamo ottenuto rapidamente una seconda scena con una seconda foto con animazioni simili ma un po' diverse benissimo adesso ci serve una terza scena vediamola come è fatta dove non ci sono foto ma c'è semplicemente un fondo bianco e una scritta azzurra che poi diventa nera quindi questa volta ritorniamo lo schema iniziale duplicando la scena 1 in modo che i rettangoli appaiano partendo dalla parte in basso a destra benissimo quindi torno nella finestra di progetto seleziono scena 1 ctrl d e ottengo la scena 3 apro la scena 3 nella timeline doppio clic e in questo caso non ci serve la fotografia con la sua maschera quindi seleziono la foto e la maschera che la ritaglia e le elimino e voglio che al posto di questo rettangolo azzurro ci sia un rettangolo bianco quindi lo seleziono vado nella finestra effect controls e nella palette colori anziché azzurro assegno un bianco benissimo quindi abbiamo il bianco poi il rosa che a questo punto però è un po' troppo in ritardo come vedete quindi prendo i due livelli questo qua il secondo e il terzo che sono il rosa e la maschera che fa il buco dentro le anticipiamo di qualche frame perfetto io direi così benissimo adesso preoccupiamoci del testo non ci servono i rettangoli rosa e bianco quindi questi due livelli qui non ci servono perché ci serve solo il testo quindi li seleziono e li cancello elimino anche la seconda copia di testo mi rimane un'unica copia di testo che adesso modifico quindi doppio clic e scriviamo every week on e a capo youtube quindi un po' più piccolo youtube lo tiriamo su un po' più grande e poi di nuovo più giù ok adesso riadattiamo la maschera che al momento vedete che è più lunga e stretta in altezza bene adesso la modifichiamo in modo tale che vada a tagliare bene il testo quindi più o meno qua sopra così e poi spostiamo entrambi il testo e la scritta al centro della composizione più o meno qua possiamo usare volendo la palette align e cliccare sul secondo pulsante e sul quinto e questo ci allinea bene i livelli al centro quindi controlliamo che l'animazione funzioni però contemporaneamente voglio fare su quest'ultima scritta anche una lenta animazione sulla scala un po' come quella delle fotografie quindi seleziono il testo che con il tasto S all'inizio del testo sul primo frame accendo l'orologio della scala poi vado sull'ultimo frame del testo e aumento un poco la scala così quindi dovrò stare anche attento che la maschera sia abbastanza grande facciamo una cosa così diamo una prova direi che va benissimo perfetto adesso duplichiamo questo livello di testo e la sua maschera in modo da avere anche una copia nera selezione due livelli ctrl d ritardo di qualche frame e cambio il colore di questo testo da azzurro a nero perfetto esposto il livello azzurro un poco più a destra con la freccia destra in modo che sbuchi fuori di lato benissimo soltanto che in quest'ultima animazione vorrei che il testo comparisse molto prima di come compare adesso anziché a un secondo quasi subito all'inizio quindi mi metto più o meno qui ecco vorrei che cominciassi ad comparire più o meno in questa zona qui quindi prendo tutti e quattro i livelli di testo e le loro maschere e li anticipo qua e voglio anche che la parte rosa sia sopra il testo e non il testo sopra la parte rosa quindi i due livelli dei rettangoli rosa e della maschera che ritaglia il buco li prendo e li sposto sopra come primi livelli in modo che ecco qui si vede che coprono il testo sotto rivediamo il tutto quindi abbiamo il sfondo bianco che appare con le solite maschere e dentro il testo che ha una lenta animazione benissimo adesso per completare dobbiamo mettere in fila queste tre scene nella composizione finale e poi abbiamo finito quindi menu composition new composition chiamiamo questa composizione esercizio 5 finale lo facciamo durare 15 secondi e diamolo ok bene aggiungiamo le tre scene la scena 1 poi la scena 2 e facciamo in modo che compaia circa 3-4 secondi qua più o meno poi prendo la scena 3 l'aggiungo e la faccio apparire anche lei intorno ai 7 secondi più o meno qua vediamo se la cadenza delle scene ci va bene facciamo una preview e abbiamo la scena 1 col suo titolo un attimo più tardi si aggiunge la scena 2 col suo titolo e ultimo titolo finale direi che come ritmo è giusto soltanto all'inizio di tutto quanto prima che comincia ad entrare in scena la prima foto vogliamo uno sfondo bianco quindi dietro tutti i livelli aggiungo un solido bianco vado nel menu layer new solid lo chiamo sfondo bianco è già bianco nel mio caso quindi va bene così do l'ok e lo piazzo per ultimo a questo punto dovremmo aver terminato faccio un'ultima volta la preview controllo tutto e direi che ci siamo perfetto quindi anche quest'ultimo esercizio sulle maschere di livello è terminato e ci vediamo alla prossima ciao ciao